So che aspettavate tutti il report di JP. Ebbene me ne ha mandato uno chilometrico, che quindi dovrò dividere in diverse puntate, così insomma come una serie tv. Partiamo allora dalla convention democratica tenuta la scorsa settimana. Ecco il report di JP. Cari ascoltatori, si è conclusa a Chicago la convention dei democratici. Una cosa da fare invidia al Barnum & Bailey Circus. Hanno parlato tutti e di tutto, ma all'infuori dei problemi della nazione. Allora come sapete la convention dura tre giorni, quindi JP ci farà chiaramente un sunto, insomma si riferirà soltanto ai principali interventi dei vari oratori. Al presidente Biden hanno dato un po' di tempo e subito dopo lo hanno caricato sull'aereo per portarlo nel Sud California per una vacanza di due settimane. Naturalmente da un suo amico multimiliardario, finanziatore dei democratici. una vacanza ci voleva perché era ormai un mese che era tornato dalla sua ultima vacanza. JP è un po' cattivello, ecco a non infierire sulle persone anziane. Il presidente è stanco, ha bisogno di riposo e oltretutto a lui della convention non gliene frega niente. Vabbè, poi hanno parlato i Clinton, la Hillary molto impegnata, mentre Bill si vedeva che non gliene fregava niente di tutto questo. nonostante l'età era molto impegnato a salutare le signore e le signorine presenti alla convention. Tremendo, JP. JP, lo sai che certi vizietti non si perdono neppure con l'età, sono connaturati. Ma guarda comunque, JP, che io non lo biasimo, è perché con una moglie così, insomma, cercare qualche diversivo mi sembra naturale. Ma sentite adesso perché JP comincia a farvi divertire, o meglio, la convention comincia a farvi divertire. JP si limita a raccontare quel che è accaduto. Sentite. Poi parla Sanders, Bernie Sanders, sapete l'esponente della super-sinistra, che urla dicendo che basta con i privilegi per i super-ricchi, è ora che paghino le tasse queste persone. Termina il suo intervento, il suo discorso, stra-applaudito da tutti i delegati che gremiscono proprio gli spalti dello United Century, dove giocano i Chicago Bulls. E si prosegue come da programma. Quindi è lo stesso Sanders che presenta coloro che sono iscritti a parlare dopo di lui. e ci sono alcuni miliardari del Partito Democratico che salgono sul palco e vengono abbracciati dallo stesso Sanders. Tutto questo è normale, miei cari amici, stiamo parlando dei democratici. Poi è stato il momento della Harris che, come dice il detto, andando con lo zoppo si impara a zoppicare. Ed ecco che ha copiato quello che ormai è stato a tutti gli effetti il suo boss, ovvero ha raccontato della sua infanzia in povertà, del padre che usciva presto al mattino per andare al lavoro e mantenere la famiglia e la madre che faceva economia per arrivare alla fine del mese. Insomma, cose che danno una stretta al cuore che ti fanno scendere le lacrime. Allora, dovete sapere, cari ascoltatori, che in verità la famiglia della Harris era più che benestante. Il padre, che curiosamente si chiama Donald, era professore emerito di economia presso l'Università di Stanford, una degli atenei più prestigiosi da noi, e la madre era una ricercatrice medica alla University of California Berkeley. I loro stipendi erano a sei cifre. E allora, scusate, ma questa parentesi, non che non credessi a JP, ci mancherebbe altro, ma ho voluto, per mia curiosità personale, fare una ricerca su internet per vedere quanto guadagna un professore della Stanford University. E ho trovato che la media delle retribuzioni di un professore, compresi i premi di risultato, commissioni, bonus e partecipazione agli utili, insomma, la media è di 190.478 dollari l'anno. E ripeto, se questa è una retribuzione media, ritengo che un professore emerito, come era il papà della Harris, abbia guadagnato anche di più. Ma questa cosa? Era una mia curiosità. ma, come sapete, anche Biden, nella sua infanzia, quasi distenti, insomma, raccontava queste cose. Ovviamente, cose del tutto inventate, per cui la Harris così avrà pensato, beh, ci provo anch'io, insomma, tanto gli elettori che abbiamo, insomma, a loro possiamo raccontare di tutto. Ma poi, ecco il momento più atteso, ovvero gli Obama. Ciò che dicono gli Obama per gli elettori democratici può essere paragonato, diciamo, a quel che dice il sacerdote a messa, ovvero parola di Dio. Baracca, tra continue ovazioni, non ha fatto altro che ripetere quello che diceva durante i suoi anni di presidenza. Vabbè, applausi a non finire, ed ecco che, dopo di lui, sua eminenza, la moglie, ovvero Michelle. Michelle racconta del padre che le ha sempre detto devi sospettare di chi ha di più nella vita, di chi possiede più di quello che gli serve. Ed io, ha ribadito Michelle, ho sempre seguito i principi che mi ha insegnato il mio papà. bello, non c'è che dire onora il padre, si dice, ho sbaglio. Però, mi scusi, sa, Michelle, ma lo sanno gli elettori del suo partito, della casa che avete comprato a Martha Bin Heard, una piccola ed esclusiva isola dove voi avete acquistato una villa con vista sull'oceano atlantico pagata solo 12 milioni di dollari. Cosa volete? Siano 12 milioni di dollari. E poi, se si acquista una villa sulla costa atlantica, magari si fa un torto alla costa pacifica, ritengo che sia per questo che avete comperato un'altra mega villa alle isole Hawaii. Ancora più lussuosa è della villa di Martha Bin Heard, quindi costata anche un po' di più. E certo, cara Michelle, aveva proprio ragione, il papà, bisogna sospettare di chi ha di più nella vita, di chi possiede più di quello che gli serve. Però, fra la costa est e la costa ovest degli Stati Uniti, guardate, ci sono più di 5.000 km. E poi, dai, insomma, dopo aver abitato a Washington per otto anni in una casa di colore bianco, certamente vi siete fatti anche tanti amici. e se volete una volta invitarle ad una cena, eh sì, dai, forse per quello che avete acquistato un'altra mega villa multimilionaria, sempre per onorare i principi che ti sono stati insegnati dal papà, eh, cara Michelle? Vabbè, finito qui, no, no, dai, prima di andare ad abitare in quella casa di colore bianco a Washington, lei, carissima Michelle, con il suo baracca, abitavate a Chicago. Casa, dolce casa. Eh sì, perché anche quella che lei ha a Chicago, in un quartiere di lusso, eh, c'è anche quella. Quanti ricordi in quella casa. Insomma, un patrimonio di case che può essere valutato così intorno ai 60 milioni di dollari. Ma chi non ha 60 milioni di dollari per comprarsi quattro case? Dai! Insomma, Michelle, possiamo senza dubbio dire che hai onorato completamente i principi che ti sono stati insegnati dal papà. Naturalmente, cara Michelle, non devi assolutamente preoccuparti, perché agli elettori democratici gli potete raccontare di tutto. Tanto quelli non dicono mai nulla, magari piangono, però vi votano e che possiamo dire? S'è la vita! Vabbè, mi fermo qui per la prima puntata, ma, come ho detto, ne seguiranno delle altre.